Il tasto F4 ci permette di fare due cose molto interessanti all'interno dell'Excel. La prima l'abbiamo già vista in una precedente lezione, ovvero andiamo su una parte della formula e premiamo F4 così lui ci aggiunge i dollari, così andiamo ad applicare i riferimenti assoluti bloccando la D e bloccando anche la riga numero 1. Quando noi trasciniamo appunto la formula vediamo che il D1 rimane bloccato, invece le altre si trascinano con la formula. Il tasto F4 ci permette anche di ripetere l'ultima operazione che facciamo su Excel. Qualche esempio molto veloce. Stringiamo la colonna, l'ho stretta, adesso voglio compiere di nuovo la stessa operazione, premo F4 ovunque io voglio e lui ripete l'ultima operazione. Vogliamo unire queste righe, facciamo tutta la procedura, poi ecco che premo F4 e lui ripete sempre l'ultima operazione che ho fatto. Si torna molto utile quando dobbiamo eliminare le righe in una tabella, quindi andiamo ad esempio qui, clic destro, elimina riga. Vogliamo eliminare queste due, F4 ecco che ne ho eliminate anche due perché lui si memorizza l'ultima operazione che abbiamo fatto.